Ciao ragazzi, in questa breve video recensione vi mostrerò questo kit di strisce LED RGB da 50 cm della Solmor. Allora, questa è la confezione di come vi arriverà il kit. È una busta trasparente che contiene al suo interno tre pacchettini. Eccoli qui. Andiamo a restrarre e li andiamo ad aprire uno per uno, quindi facciamo un vero e proprio unboxing. Allora, questo qui più grandino contiene l'alimentatore. Eccolo qui. L'alimentatore è quelli standard, diciamo con la presa standard italiana a due poli, quindi l'ingresso è a 220V ma va benissimo anche a 100V, quindi potrete portarlo con voi anche eventualmente all'estero. Ed ha il classico spinotto, diciamo a due poli, l'uscita a 12V e da 2A, quindi bello potente per mettere a alimentare una striscia di LED molto lunghi, nel caso in cui vogliate utilizzarlo per altri LED. Nel secondo pacchettino c'è il vero e proprio controller che serve a gestire la striscia di LED RGB. Eccolo qui. Questo qui è il controller, quindi al suo interno ha tre connettori. Questo qui, che è quello per l'alimentazione, il connettore per le strisce LED. E questo non è un vero e proprio connettore ma bensì una fotocellula per il telecomando. Per quanto riguarda il kit comprende, al suo interno, anche una piccola serie di tanti accessori. Eccoli qui. Andiamo a restare al volo. Sono composti da una serie, diciamo, di blocchi per fissare le strisce LED, ad esempio, su un pannello di legno e così via. Quindi vedete, queste qui sono in silicone morbido. La striscia LED si mette all'interno di questo incavo e tramite queste viti da legno si andranno a avvitare su qualsiasi superficie per mettere l'avvitamento della vita, insomma. Questi invece, questi connettori maschio-maschio a quattro pin, sono quelli per collegare tra di loro le strisce. Vedremo più avanti come si utilizzano. Vediamo che ci sono tanti connettori, tanti blocchi e tante viti, ovviamente. All'interno di questo scatolino, infine, eccolo qui. Vabbè, c'è un piccolo manueletto di istruzioni in inglese che serve e non serve, tutto sommato. E questo qui, che diciamo è il cuore per la gestione dei LED, quindi è un telecomando multifunzione, che vedremo più avanti. Per funzionare, già è compresa la batteria a bottone, va rimossa questa linguetta di plastica in modo da andare ad alimentare la batteria. Passiamo quindi all'ultimo pacchettino, che è questo qui, con la classica busta antistatica color argento. Eccolo qui. Lo estraiano. Al suo interno troviamo una bobbina che contiene le quattro strisce di LED, che sono queste. Sono nere davanti e dietro hanno un nastro obbedesivo, quindi basterà togliere questa pellicola rossa per avere, diciamo, la parte adesiva per fissarla su un mobile e così via. Come dicevo prima, queste linguette in gomma possono benissimo essere fissate per reggere in posizione le striscioline, ad esempio sotto una menza e così via. Ogni strisciolina è dotata di due connettori, all'inizio e alla fine della striscia. È lunga 50 cm e su ogni striscia ci sono in totale 15 LED RGB. Inoltre, in questa busta c'erano anche quattro connettori, eccoli qua, quattro connettori prolunga, che servivano appunto ad unire tra di loro le strisce interponendo, diciamo, un piccolo cavo di alimentazione. Ed infine un connettore che in realtà non serve a molto, serve solamente allo scopo di alimentare la bobina, ma in realtà in questo kit serve o non serve, quindi in realtà potrebbe benissimo utilizzarlo. Per accendere il LED e collegarlo e metterlo in opera per la prima volta, andrò a prendere una delle striscioline, ne posso mettere una, due, tre, quattro, come voglio, anche una unita all'altra, oppure intervallarle con questi connettori, e per collegarle vado a prendere uno di questi spinotti a quattro poli maschio-maschio e inserirlo fino a fine corsa, sia sulla strisciolina che sul connettore, facendo in modo che la freccettina sulla striscia vada a corrispondere alla freccettina su questo connettore. Eccolo qui. Servirà una leggera forza per portarla fino a fine corsa. Dopodiché vado a collegare lo spinotto del jack di alimentazione sul controller, quindi vado a collegare il trasformatore direttamente alla spina elettrica. Un attimo solo. Ecco fatto. Perfetto, come potete vedere è già partita la serie automatica di colori, e per quanto riguarda la gestione basterà puntare il telecomando su questo controller per gestire i colori, ad esempio adesso io ho impostato il rosso, se premo il tasto verde corrisponderà al verde, e così via, il viola, lilla, magenta, giallo e così via. Per quanto riguarda questa serie di led, è come dicevo possibile combinarli tra di loro, e in più ci sono quattro effetti di tonalità di colori, quindi per esempio così si ha l'alternanza in automatica veloce. Con il tasto con scritto strobe si ha questa variazione, diciamo, che si accende e si spegne illuminandosi di vari colori, con fade invece si ha questo cambiamento progressivo di colore che va a sfumare dal giallo al verde al celeste e così via in automatico, e con il quarto tasto smooth si va ad avere una variazione veloce dei colori del led. Ci sono poi tasti di accensione e spegnimento, oltre che appunto tutta una serie di colori, bianco, blu e così via. Per quanto riguarda i tastini, sul telecomando sono presenti anche due tasti per regolare l'intensità luminosa, ma nel mio caso non funzionano, quindi presumo che questo kit non permetta di regolare la luminosità totale della striscia. Come dicevo, è possibile collegare più strisce a questa. Allora, per farlo conviene sempre scollegare prima la corrente per evitare, diciamo, di fare danno. Ad esempio in questo caso vado a montare una di queste prolunghette, quindi come al solito prendo uno dei connettori maschio-maschio, lo collego, faccio in modo che vadano a corrispondere sempre le freccettine quando poi lo vado a collegare. Quindi prendo il terminale di questa striscia, che come vedete è già predisposto, faccio corrispondere le freccettine, premo fino a fine corsa e vado a collegare una seconda striscia, eccola qui. Anche in questo caso servirà un altro connettore, lo infino fino a fine corsa, ecco fatto, controllo il verso della freccettina, ecco fatto. Adesso come potete vedere sono connesse due striscioline con questo prolunghino da circa 20 cm. Collego l'alimentazione ed il gioco è fatto. Come potete vedere adesso si illumino due strisce, ma come ho fatto adesso ne posso collegare quattro e così via. Nel kit come dicevo ne sono comprese già quattro con il biadesivo sul retro, sono lunghe 50 cm l'una e diciamo che questo kit permette facilmente di montare ad esempio queste strisce su dietro sotto un ripiano di un mobile o sotto delle mensole e così via. Volendo, se siete pratici di impianti elettrici, è possibile benissimo tagliare uno di questi elementi e giuntarlo con dei fili più lunghi in modo da poter arrivare ad esempio se ci sono più distanze di, che ne so, 50 cm tra una menzola e l'altra, in questo modo è possibile creare delle prolunghe più lunghe. Queste in dotazione, come dicevo, sono appunto lunghe una ventina di centimetri, ma sono molto comode perché appunto hanno già connettori pronti, quindi nel mio caso andrò a sfruttare queste senza dover intervenire ulteriormente sul taglio dei cavi elettrici. Insomma, il kit è simpatico, ben fatto, il costo è abbastanza contenuto e ci sono soprattutto già tutti gli elementi per metterle in uso, quindi è un kit ben fatto e sono contento di averlo potuto recensire. Spero di essere stato utile, come al solito, se nel caso in cui abbiate domande, curiosità eccetera, basta che mi iscriviate sotto questa video recensione. Un saluto alla prossima da Mariano.